Ero ancora molto piccola, quando il mio onorato padre morì. Era un ufficiale dell'esercito dell'imperatore e si uccise perché era stato sconfitto in guerra. Sulla sua spada è scritto morire con onore se non si può più vivere con onore. E così la mia famiglia diventò molto povera e non sapevamo più come andare avanti. Quanti anni hai, Cho-Cyo-San? Ne ho sei, madre. Bene. Non sei ancora troppo vecchia per diventare una geisha. Una geisha. Ma io non so... Oh sì, io una volta le avevo viste, affacciandomi dalla porta di casa. Le avevo viste camminare a piccoli passettini lungo la via. Avvolte nei loro chimoni variopinti, con i visi coperti di bianco e le loro splendide acconciature. Loro non camminavano, no. Fluttuavano sul terreno. Così belle, alte, sempre innamorate. Anch'io voglio diventare una geisha. Non vedevo l'ora di iniziare la mia nuova vita perché anch'io avrei indossato un kimono tutto di seta.